La funzione assistenza parcheggio consente di effettuare le manovre misurando la distanza tra il veicolo e un ostacolo grazie ai sensori a ultrasuoni posizionati nei paraurti. A seconda del veicolo, il sistema rileva la presenza di eventuali ostacoli che si possono trovare davanti, dietro e lateralmente. Questo sistema genera segnali acustici la cui frequenza aumenta con l'avvicinarsi dell'ostacolo, diventando un suono continuo quando l'ostacolo si trova circa 20 centimetri di lato e circa 30 centimetri di distanza dalla parte anteriore o posteriore del veicolo. È inoltre possibile vedere le aree circostanti il veicolo sulla schermata centrale di Open Arlink. Le aree verdi mostrano che l'ostacolo si trovano a certa distanza e diventano di color arancione man mano che ci si avvicina. Quando l'ostacolo si trova a circa 20 o 30 centimetri dal veicolo, viene emesso un suono di avvertimento continuo e l'area di marcatura diventa rossa. Con l'assistenza al parcheggio laterale viene emesso un segnale acustico solo se l'ostacolo si trova nella traiettoria del veicolo. Si noti che il sistema funziona solo a velocità inferiori a 10 chilometri orari. L'assistenza al parcheggio si disattiva automaticamente in posizione P o N o quando la velocità è superiore a 10 chilometri orari. Il suono si interrompe automaticamente se il veicolo e l'ostacolo rilevato rimangono fermi per alcuni secondi. Premere questa icona per interrompere temporaneamente il suono. È possibile attivare o disattivare manualmente questa funzione dalla schermata centrale di Open R-Link. Andare nel mondo veicolo, quindi selezionare assistenza alla guida e infine parcheggio. È quindi possibile scegliere quali zone di rilevamento ostacoli attivare o disattivare. attivare o disattivare l'avviso acustico di aiuto al parcheggio, scegliere il tipo di suono e regolare il volume. Per garantire il corretto funzionamento del sistema, assicurarsi che i sensori oltrasuoni non siano ostruiti da sporcizia, come fango o neve. Inoltre, è preferibile disattivare la funzione in caso di traino, quando il rimorchio o il gancio di traino potrebbero ostruire i sensori. Se il sistema rileva un malfunzionamento, viene emesso un segnale acustico speciale ogni volta che si inserisce la retromarcia e sul quadro della strumentazione viene visualizzato il messaggio sensori di parcheggio da controllare. Contattare un rappresentante Renault per risolvere il problema. Infine, tenere presente che questa funzione è un ausilio alla guida che non deve comunque sostituire la vigilanza del conducente. Occorre essere sempre attenti a eventuali eventi improvvisi che si possono verificare durante la manovra.